Milano Fashion Week 2021 continuano le sfilate in compagnia di bellissime modelle in questa fantastica giornata di pieno sole soleone abbiamo incontrato Aristide Mallati che si è messo anche la crema solare si è assolutamente mi sono messo la crema solare quella che metteva anche Cleopatra fatta con lo sterco di coccodrillo nano opportunamente trattato come dice Ovidio in sua famosa opera esistevano le sfilate a proposito nell'epoca dei romani dei greci assolutamente sì il poeta greco arcaico lirico alceo siamo nel settimo sesto secolo vanti cristo diceva che il suo malgrado doveva assistere alle sfilate di moda e concorsi di bellezza di queste giovani fanciulle in fiore nel tempio di era siamo sull'isola di lesbo e lui si lamentava perché era costretto a questo supplizio quando invece voleva partecipare al lagone politico però io direi che di fronte alle giovani fanciulle in fiore non si tratta certo di un supplizio Milano Fashion Week 2021 in compagnia anche si incontrano splendidi amiche e amici con noi Rosy di Lettuoso ciao Rosy ciao ragazzi come state io benissimo non so se si vede te come stai io sto molto bene com'è questa Milano Fashion Week Rosy finalmente vediamo una Milano un po' con un po' di gente sai visto i due anni precedenti devo dire che è carino poi un po' di eventi ci sono adesso vediamo cosa ci aspetta il futuro con questa moda e con queste nuove tendenze soprattutto e direttamente dal Venezuela no ho sbagliato da Venezia Franklin Santana ciao Franklin no di Venezia vengo dal festival di Venezia ho presentato un bellissimo progetto cinematografico fatto tutto a Roma e niente adesso siamo di Fashion Week come tutti gli anni ormai io sono un adottato di Milano e beh se ti vediamo infatti in tanti eventi è un piacere nel backstage del Mad Mood un volto noto a tutti è con noi Gwenda Coria che cos'è per te la Milano Fashion Week ma innanzitutto è la possibilità di tanti artisti e tanti stilisti emergenti di farsi conoscere in una Milano che è ripartita alla grande è bello vedere anche tanti stilisti di tante nazionalità diverse proporre dei capi veramente molto variegati io ho visto tanti stand e tanti colori tanta voglia di ripartire questo è molto bello una giornata piena di emozioni veramente intensa e alla fine di questa fantastica giornata siamo con lei Mariana Miceli con fatica pensando un anno di ripartenza dopo un anno di blocco ricominciamo con le sfilate qui a Milano oggi abbiamo presentato ben 28 designer come dicevi tu nuovi progetti in cantiere il 15 di ottobre inauguriamo a Dubai un concept store italiano con cibo italiano e design italiano con all'interno anche un ristorante proprio per far degustare le nostre tipicità e poi contemporaneamente si potranno anche provare i nostri abiti tutto made in Italy prettamente sartoriale e per la Milano Fashion Week 2021 è veramente tutto e vi aspettiamo seguiteci e socializzate TG Events Television www.blog.com.info www.blog.com.info www.blog.com.info